Con l'alternarsi di saggi governi, il popolo italiano ha ormai raggiunto un alto grado di maturità. I lavoratori, operai e impiegati hanno finalmente capito che la produttività è alla base del benessere sociale e l'unica strada per uscire dalla crisi. Quando ci entrare vogliamo lavorare? Questa sera voglio fare tre ore di straordinario! Bisogna aumentare la produttività! Non posso vivere senza le mie pratiche! Aiutiamo questo nostro paese, aiutiamolo! Andiamo a piedi che guadagniamo tempo, su! Oramai le due grandi piante dell'assenteismo e del secondo lavoro che tanti danni hanno provocato all'economia italiana, possono dirsi finalmente vinte e debellate! Andiamo! Andiamo a lavorare! Andiamo a lavorare! E io non voglio sentire storie, deve essere promosso a tutti i costi!